Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come funziona Gamsco ovviamente se vuoi risparmiare sulle piattaforme come Netflix, YouTube Premium, Disney+, Paramount+, e altre piattaforme per ascoltare musica e soprattutto anche piattaforme per usare i servizi Office. Ovviamente Gamsco è un sito legale affidabile che io ormai uso da 8 mesi e ho sempre comprato Netflix, Paramount+, o Disney+, quindi in questo caso se vuoi risparmiare ci ho lasciato così il link in descrizione che ti porterà sulla pagina di Gamsco e grazie anche al codice che vedi sullo schermo puoi risparmiare 5% su Netflix, quindi come puoi vedere questo è Netflix. Se io per esempio clicco su iscriviti adesso c'è quello da 12 mesi, da 6 mesi e da 3 mesi, ovviamente 13 euro 3 mesi più lo sconto lo puoi prendere a 10 euro per 3 mesi, quindi Netflix 4K Ultra HD 3 mesi 10 euro. In descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina di Gamsco, eccolo qua, questo è il link, clicchi sul link, accedi così con il tuo account Google perché così facendo quando andrai a comprare così un servizio ti manderanno per via email e la credenziale, quindi l'email e la password che sarebbero queste. Tipo se io adesso compro Netflix, vado sulla pagina di Netflix, questa è l'email e questa è la password, come puoi vedere queste sono le ultime 3 email che mi hanno mandato, tu metti l'email e la password e fai su accedi e ti porterà così sul servizio di Netflix e potrai guardare quello che vuoi. In alto a destra ci sono altri video, tipo per esempio ho comprato Paramount Plus, ho fatto l'accesso e ho visto qualche contenuto, quindi clicchi sul link, questo è Google, scegli così un tuo account Google, io metto questo qua. Una volta fatto l'accesso non ti resta che puoi comprare, acquistare e farti mandare per via email le credenziali, quindi questo è il mio abbonamento, questi sono i miei ultimi abbonamenti che ho fatto. 3 Netflix, Disney Plus e Paramount Plus, ovviamente se ti sta per scadere un abbonamento puoi fare rinnova, ti daranno anche dei 30 giorni in più in regalo e ti fanno anche risparmiare un sacco. Quindi una volta fatto, come puoi vedere questi sono gli ordini che ho fatto acquistare ad alcuni utenti, quindi hanno comprato Netflix gli ultimi giorni fa e del 6 di marzo, Netflix, Netflix, YouTube, Disney Plus, Paramount, Netflix, YouTube Premium, sempre gli stessi servizi perché sono veramente ottimi. Quindi, se hai problemi con Gamma Scope scrivimi sotto al video oppure puoi direttamente entrare nel server Discord, contattarmi in privato oppure puoi scrivermi direttamente su Instagram. Scrivi su Instagram, mi dici cosa ti serve, ti mando il link, puoi anche comprarti Spotify, ecco Spotify e YouTube Premium. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, come usare Gamma Scope come risparmiare sulle piattaforme, quindi se tu continui a spendere soldi su Netflix, proprio sul sito ufficiale di Netflix, pagando 8-12 euro, tu con soli 30 euro guardi in 4k Netflix. La qualità è fino a 4k e te lo puoi godere con un prezzo veramente stracciato. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, come usare Gamma Scope, iscriviti al canale, lascia like per altri problemi. Come ho detto, contattami in privato su Instagram o Discord, scrivimi sotto al video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!